Ben trovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi è l'8 marzo, la giornata dove la donna viene celebrata in tutto il mondo, ma soprattutto dove ognuno di noi è chiamato a riflettere per tentare di fermare le violenze di ogni genere, ormai diventata una vera e propria piaga della società. Le donne, quelle che possono farlo, oggi sono in sciopero per 24 ore, si estengono da ogni attività, sia sul lavoro che dentro le mura domestiche. Un segnale forte che vuole dire basta, manifestazioni sono in corso in tutta Italia. Ad Alessandria l'8 marzo è cominciato con un presidio e un'assemblea degli studenti che si sono ritrovati davanti al liceo classico Saluzzo. Sentiamo da uno di loro il significato di questa manifestazione. Noi ci troviamo qua perché oggi è l'8 marzo ed è stato indetto uno sciopero internazionale contro la violenza sulle donne e noi studentesse facciamo parte di un'assemblea che si chiama Non una di meno e facendo parte anche del collettivo studentesco abbiamo deciso di portare in piazza anche noi come studenti uno sciopero dove appunto un presidio davanti al liceo Saluzzo dove abbiamo deciso di formare dei tavoli di discussione dove si parlano di varie tematiche che la scuola spesso non ci permette di affrontare come ad esempio l'educazione al sessismo e come combattere sessismo all'interno delle scuole oppure la figura della donna all'interno del giornalismo o i tabù e anche l'educazione alle differenze di genere, all'omosessualità e tutto ciò che riguarda comunque questi argomenti che spesso non abbiamo la possibilità di discutere in classe. Come vi dicevo l'8 marzo quest'anno è soprattutto all'insegna del rumore per rompere quel muro di omertà che ha fatto sì che la violenza di genere in questi anni continuasse a crescere rimanendo ad Alessandria nel pomeriggio sarà protagonista il centro antiviolenza Medea in piazza Marconi, le donne eseguiranno delle letture fino ad arrivare alle 18 e alle 18 in piazzetta della Lega si snoderà il corteo organizzato dall'associazione Non Una Di Meno. Mobilitata anche la città di Torino e ce lo racconta Roberto Monteriso che salutiamo. Un saluto a tutti i telespettatori, auguri a tutte le donne in piazza, in tutto il mondo, anche a Torino con tante iniziative di adesione allo sciopero contro la violenza e le discriminazioni di genere. Sentiamo. Nella giornata internazionale della donna, oggi mercoledì 8 marzo, è stata proclamata una giornata di sciopero globale contro la violenza, obiettivo scendere nelle piazze di tutte le città per dire basta alla violenza maschile sulle donne, alle discriminazioni di genere, alle molestie nei luoghi di lavoro, ai femminicidi, alle discriminazioni salariali, alla precarietà. Lo sciopero globale lanciato in Argentina e poi ripreso da una cinquantina di paesi in tutto il mondo. In Italia è stato proposto dal movimento Non Una Di Meno. Ha visto l'adesione di diverse sigle di base e avrà una durata di 24 ore. Gli stop previsti riguardano soprattutto trasporti, scuole e sanità. Sotto la mole aderisce allo sciopero la FLCCGL che impiazza anche contro la buona scuola e i decreti legge attuativi. Uno sciopero generale di tutta la giornata che si conclude che oggi è qui davanti all'ufficio scolastico regionale perché noi siamo una categoria che affronta i temi della scuola, università e ricerche, i temi della conoscenza. C'è una manifestazione e raccoglie non solo il mondo del lavoro ma la società nel suo complesso ribadendo diritti che vanno dal lavoro ai rapporti di genere e mette in discussione dei rapporti di potere che minano le fondamenta di un'uguaglianza sociale. Quello che noi chiediamo è certamente un'attenzione a tutto il settore dell'istruzione pubblica, chiediamo un rinnovo del nostro contratto collettivo nazionale di lavoro fermo da 8 anni, chiediamo un'attenzione al problema del precariato perché riteniamo che in una categoria composta dall'80% da donne il peggioramento delle condizioni di lavoro, la mancanza di stabilità nei posti di lavoro sia un elemento fortissimo e che ha a che vedere con la violenza che subiscono le donne, subiscono i giovani tutti i giorni. Questo è l'allievo predileggio. Molto bene, per restare in argomento ritorniamo da Ade De Vinci. Appunto nella giornata internazionale della donna la Polizia di Stato ha scelto la città di Casale Monferrato per incontrare gli studenti della provincia. Durante l'incontro è stata dibattuta la campagna di sensibilizzazione, questo non è amore, ma sentiamo di più da Franco Capone. In occasione della ricorrenza dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, la Polizia di Stato della provincia di Alessandria ha organizzato un incontro con gli studenti delle scuole medie e superiori per illustrare la campagna di sensibilizzazione che accometteva questo non è amore. La manifestazione è stata indetta dal Ministero dell'Interno e questore di Alessandria ha dato la possibilità di fare questo progetto in Casale. Siamo passati da una mentalità militare maschilista a considerare i problemi sotto un altro aspetto, sotto un altro aspetto perché c'è la collaborazione del genere femminile che ha portato un altro modo di pensare, una consaporezza diversa, una sensibilità diversa e quindi questo non può che arricchire un corpo come il nostro, un gruppo di uomini che deve essere a servizio dei cittadini e quindi a servizio anche delle donne. L'incontro si è svolto nella centralissima piazza Mazzini di Casale Monferrato dove è stata illustrata l'attività delle forze di polizia a tutela delle donne vittime di violenza e il lavoro delle donne nella polizia di Stato. Che cosa è cambiato? Lei fra l'altro è medico e quindi conosce il dolore e la violenza. Sicuramente penso che le donne comportino un valore aggiunto perché abbiamo questa forza di andare avanti, questo sorriso che è dettato da tante cose, dal potere che ci viene dato non solo indossando questa divisa ma anche da tutto ciò che possiamo portare in una casa, in una famiglia. Dal fatto che comunque possiamo trovare un'energia in più, quindi una donna nella polizia di Stato Stato vuol dire anche un atteggiamento sicuramente più empatico nei confronti di chi soffre. In questa giornata che cosa ti rimava lì più in mente? Beh sicuramente il fatto che ci possano dare dei consigli per come affrontare queste cose e comunque è una cosa che capita sempre più spesso e quindi ci possono servire queste cose. Ci rendono partecipi di quello che sta succedendo e di metterci anche in allerta su quello che ci potrebbe anche succedere. Beh credo sia molto importante perché noi ragazzi dobbiamo capire che non serve mettere le mani addosso alle donne e non è giusto in nessun caso e quindi dobbiamo cercare di esprimere i nostri sentimenti se cerchiamo di esprimere quelli in altri modi senza usare le mani nella violenza. Adesso per la pagina della cronaca la prossima notizia arriva da Torino quindi in linea Roberto Monteriso. Sì perché pedinava gli studenti usciti da scuola poi li aggrediva con violenza per derubarli. Un italiano tossicodipendente è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile torinese. I dettagli della vicenda. Li sceglieva all'uscita da scuola poi li pedinava, li aggrediva anche violentemente e rubava loro soldi, cellulari e tablet. Aveva terrorizzato molti studenti, l'uomo che sceglieva le sue vittime in studenti tra gli 11 e 13 anni, fuori dalle medie e superiori del centro città. In alcuni casi è arrivato anche a seguire i giovani negli androni delle loro case e a colpirli con numerosi pugni sul volto. Ragazzi e ragazze. Ma la polizia di stato ha fermato l'autore delle rapine avvenute nel mese di febbraio. E' un italiano tossicodipendente senza fissa dimora, classe 1981, che il personale della sezione antirapina della squadra mobile di Torino ha individuato dopo una serrata attività investigativa ed intesa con la procura della Repubblica di Torino lo ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tre rapine consumate e due tentate ai danni delle giovanissime vittime commesse nell'area del centro città. Come detto in alcuni casi le rapine hanno assunto connotati di particolare violenza in quanto l'uomo, dopo aver seguito i minori, entrava con loro nell'androne degli stabili di residenza e li derubava colpendoli più volte con pugni sul volto con conseguenti lesioni. L'uomo è stato identificato anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali e privati. Ora si trova in carcere. Molto bene ed ora possiamo tornare alla redazione di Alessandria. Dopo queste notizie incredibili parliamo di cinque indagati per un'esplosione a febbraio in una palazzina a Novi Ligone. Il magistrato ha chiesto una perizia tecnica per chiarire le cause dell'incendio con conseguente esplosione. Ci racconta tutto Emma Camagno. Potrebbe esserci uno strascico penale a seguito dell'incendio divampato la notte fa il 20 il 21 febbraio in una palazzina di Novi in via 4 novembre 25. Più delle fiamme che avevano l'ambito sottotetto dell'edificio fu lo scoppio a squarciare la notte. Un fragore concentrato in uno degli alloggi al piano terreno aveva scosso l'intero edificio. Rimasero feriti due vigili del fuoco. Ci sono cinque indagati con l'accusa ipotizzata di incendio e lesioni colpose. I proprietari della palazzina, un inquilino dell'appartamento dove è avvenuto lo scoppio e un impresario che aveva effettuato dei lavori. Sarà comunque l'inchiesta della procura affidata al PM Giovanni Gasperini a stabilire se in effetti ci sono responsabilità e di quale esatta natura. Gli ingegneri Riccardo Carrà ed Elisa Bezzone sono stati incaricati dal magistrato di svolgere una perizia tecnica per spiegare le cause che hanno provocato prima il rogo nel sottotetto e poi lo scoppio nell'alloggio al piano terreno. Nella casa a tre piani tutti quelli che c'erano dormivano. Un paio di appartamenti al piano di mezzo erano disabitati e in uno di quelli al piano terreno gli inquilini erano assenti. Fu una donna a dare l'allarme, i vigili del fuoco intervennero prontamente, si scampò una tragedia ma ora bisogna capire perché si è arrivati così vicino a sfiorarla. E adesso parliamo del mosaico di Severini, è iniziata l'opera di salvaguardia di questa grandissima opera d'arte che per troppo tempo è stata nascosta e che adesso in qualche modo viene rivalutata, riscoperta, in futuro sarà illuminata anche da luci artificiali alla sera ma adesso consigliamo a tutti di andarla a vedere alle luci del tramonto. Sentiamo in questa notizia. Sono puntualmente iniziati i lavori per far nascere l'area pedonale davanti al mosaico del futurista Gino Severini posizionato sulla parte frontale del palazzo delle poste. La maggior parte degli alessandrini non si è mai accorta di quanto sia bello il mosaico di Gino Severini soprattutto quando si avvicina il tramonto, di quanto risaltino materiali, le tessere che compongono le varie figure e di come lucchino con i raggi del sole che arrivano diretti passando sopra il palazzo rosso del comune. Queste le immagini fatte ieri alle 5 della sera. Non ci ho mai fatto caso che esistesse tale bellezza all'interno della città, invece in questo modo si nota. Questo mosaico bellissimo che c'è qui sulla facciata delle poste è risultato invisibile per un po' di tempo perché c'è sempre la macchina parcheggiata davanti, adesso stanno facendo i lavori per renderlo più visibile, però restringono anche la carreggiata qui in Piazza della Libertà. Voi siete d'accordo? Io sì, perché il parcheggio ad Alessandria non manca, se fanno due passi in più e vanno a passeggiare un po' più avanti non mi sembra che sia un danno e poi abbellisce un po' la piazza, visto che il degrado comincia a sentirsi anche in questa piazza, guardando anche le panchine. Il mosaico ha priorità su vedere delle macchine messe in doppia e in tripla fila, a mio giudizio magari ci vorrebbe anche l'intervento dei vigili che venissero a togliere le macchine quando ci sono. Ha fatto un bel lavoro, sì. Sì, hanno fatto bene, sì. Sì, hanno fatto una cosa buona. No, per me hanno fatto una stronzata quella affaia. Tanto c'erano quelle ringiere là che ci andavano di là, non ci andava nessuno. Per la città sarebbe ora che queste cose venissero fatte. Sì, molto bello, approvo in pieno. E fa tappa domani ad Asti, niente male, Roadshow, il percorso itinerante di eventi con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul diritto di accedere alla terapia del dolore. L'appuntamento è alle ore 18 nella sala Pastrone del Teatro Alfieri. Tra i numerosi relatori è anche lo psichiatra Paolo Crepe. Il convegno sarà moderato da Rosanna Lambertucci. Niente male, Roadshow è patrocinato dal Ministero della Salute. L'ingresso è libero. Innovare per crescere il territorio e le frontiere del settore agroalimentare. È stato questo il tema dell'incontro che si è svolto nella sala multimediale della sede provinciale della Coldiretti di Alessandria. Sentiamo Franco Capone. La Coldiretti Alessandria, sempre in primo piano nella ricerca sull'innovazione per crescere in agricoltura, ha tracciato in un convegno svoltosi nella sala multimediale della sede provinciale Corso Crimea d'Alessandria le frontiere del settore agroalimentare, lavorando in stretta collaborazione con il CADIRLAB, il Consorzio Agrario del Piemonte Orientale, l'Università degli Studi di Torino, la SATA, la Cooperativa Monferrato Frutto e Agrion, insieme alle imprese del territorio. Tutti insieme hanno lavorato in questi mesi in stretta sinergia per richiedere finanziamento per la costituzione dei gruppi operativi, progettuali per lo sviluppo di innovazione utile all'agricoltura e alla forestazione piemontese. Idee e non solo, ma progetti che Paolo Rendina del CADIRLAB ha definito. Insieme, cooperando, siamo riusciti in qualche modo a presentare dei progetti che hanno un loro significato e una loro importanza per il territorio. Sono diversi, sono cinque i progetti che presenteremo oggi e hanno tutti una ricaduta economica sul territorio per l'agricoltura locale. Presentano delle innovazioni, delle innovazioni importanti per l'agricoltura che vanno a risolvere delle problematiche ben specifiche che, se risolte, poi porteranno un frutto all'agricoltura locale in termini di reddito e anche di sviluppo delle filiere. Ora, l'ultima parola spetta alla Regione Piemonte, ha affermato il Presidente Provinciale della Col di Retti Alessandria, Roberto Paravidino, intervenendo al convegno. E' inutile nel gallo. Noi siamo determinati a portare avanti sul territorio priorità in grado di garantire reddito alle imprese e dare nuovi incentivi alle filiere locali, migliorando sia quelle già esistenti che creandone di nuove. Col di Retti guarda sempre il futuro, lo guarda sempre con uno sguardo sulla sua tradizione, ma anche sull'innovazione che sta venendo in agricoltura. L'impatto che abbiamo sulla società e sui consumatori soprattutto lo dimostra. Quindi vuol dire che la nostra progettualità è recepita e abbiamo sempre cercato già da anni di puntare in queste direzioni e ne stiamo raccogliendo finalmente risultati. Ecco Presidente, questo grande progetto che raggrupperà numerose iniziative avrà una ricaduta inutile sul mondo dell'agricoltura? Io sono convinto certamente di sì, perché ci siamo adoperati come col di Retti praticamente a mettere in sinergia tutte le forze che sono sul territorio, coordinati appunto dalla grande organizzazione che è la Col di Retti. Noi abbiamo fiducia in questo PSR perché tutto quello che abbiamo presentato alla nostra progettualità è legato ai nostri progetti di filiera, che come sanno anche i nostri consumatori ci sono mossi in tante direzioni. Io sono sicuro che questo progetto porterà anche ritorni economici alla nostra provincia e soprattutto alle nostre aziende. Tante le iniziative che riguarderanno tutta la Diocesi di Acquiterme in occasione del 950esimo anniversario dell'intitolazione della Cattedrale dell'Assunta. Sentiamo da Fabrizio Mattana. 950 anni fa, esattamente l'unici novembre del 1067, la Cattedrale di Acquiterme veniva intitolata Nostra Signora Assunta e per festeggiare l'avvenimento in tutta la Diocesi vengono organizzate diverse iniziative che culmineranno nelle soleni celebrazioni del prossimo autunno. Il vasto territorio diocesano, che si estende anche all'introterra Ligure, si sta preparando al Giubileo con una serie di incontri artistico-spirituali che porteranno nei diversi centri zona innanzitutto il messaggio del Vescovo Sanguido, per la cui volontà la Cattedrale fu edificata, ma anche una più profonda conoscenza e analisi delle opere artistiche ivi contenute. Alcuni incontri si sono già svolti, altri animeranno le serate quaresimali, fino a Pasqua. Considerando il territorio di cui ci occupiamo, specificatamente nella zona Acqui-Alessandria, gli appuntamenti con fede e arte si terranno ogni martedì, presso il nuovo ricreatorio di Via Cassino ad Acquiterme, con relatori fra gli altri il professor Bruno Galizzi, Don Aldro Migneri e Don Maurizio Bensi. Per la zona Nizza-Canelli si partirà dal lunedì 20 marzo, presso il Salone San Nazaro di Nizza-Monferrato, mentre per la zona Ovada-Vallestura è stata stilata una ricca serie di appuntamenti che ogni venerdì coinvolgeranno non solo buona parte delle chiese di Ovada, ma che si spingeranno anche a Belforte e a Tagliolo. Di particolare rilievo sarà proprio la serata del 17 marzo, presso la parrocchia di Belforte-Monferrato, con il docente di storia dell'arte Arturo Vercellino, e il docente di letteratura Carlo Prosperi, che affronteranno l'argomento La Cattedrale di Acqui, 950 anni di storia, arte e fede. Fra le altre iniziative è il pellegrinaggio della reliquia di San Guido Vescovo nelle varie zone della Diocesi. In tale occasione ci saranno momenti di preghiera ai catechesi. Ad Ovada la reliquia giungerà presso la chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta giovedì 27 aprile e vi rimarrà fino a mercoledì 3 maggio. L'anno del giubileo della cattedrale vuole mettere in rilievo il suo ruolo storico e spirituale e aiutare i fedeli a ritrovarli. Partendo poi dal luogo in cui il Duomo è stato costruito, cioè quello più alto della città, viene naturale riflettere sul ruolo che la chiesa esercita tuttora, maestra di verità, faro che indica la strada da percorrere e punto da cui si propaga la missione verso i territori limitrofi. Siamo arrivati al termine, tra poco la pagina sportiva, parleremo dell'Alessandria Calcio. Mister Braglia ha sottoposto la squadra ad una serie di allenamenti per affrontare nell'anticipo di sabato prossimo l'Olbia. Subito dopo, come sempre, previsione del tempo, le notizie utili. Grazie, arrivederci e buon 8 marzo. Grazie.